Musica Ebbene sì, dopo circa tre anni di assenza per le piazze, la compagnia di teatro dialettale Louracire si ripresenta quest'anno. Si ripresenta dopo la richiesta abbastanza incessante dell'assessore alla cultura di San Salvo e si ripresenta non con la commedia teatrale perché noi la commedia di solito siamo abituati a farla nelle sale ma ci riproponiamo comunque di portare quella che è la commedia vera, la commedia fatta con degli sketch. Stasera effettivamente faremo dieci sketch alternati da alcuni stacchetti musicali e questi sketch praticamente raccontano che cosa? Raccontano la vita, il fare di tutti i giorni, da il poveraccio che va all'ufficio di collocamento a richiedere lavoro forse inutilmente purtroppo, alla famiglia, alla famiglia con tanti problemi cioè diciamo tutta quella che la vita quotidiana, noi stasera siamo qui sul palco a raccontarla a voi. Grazie a tutti.